Sono forte qua, è successo su di me, io facevo pure i resital di poesia, mille sono più bravi di me, un milione sono più bravi, facevo la prosa normale, ho fatto il teatro espressionista, ho fatto il presentatore di defile, ho fatto mille cose ed ero, perché devo guadagnare? Però ho capito che la comicità e questo tipo di comicità ero forte in quello, allora ho puntato su quello fino a poi mi è andata bene.